Confronto e discussione. È da questo che l'area democratica del PD vuole ripartire dopo il successo delle primarie del centro-sinistra che hanno cambiato il partito. È un PD meno apparato e più di popolo. È un PD meno chiuso su se stesso, sul proprio centro politico. È più aperto alle istanze dei cittadini. È un PD più fedele a se stesso, un PD più coerente con le sue speranze e le sue scommesse originarie. Abbiamo ottenuto un risultato eclatante alle primarie, ha detto l'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiano Amati, perché abbiamo fiuttato quello che i pugliesi pensavano del governo regionale e del suo presidente. La Puglia, secondo i rappresentanti dell'area democratica del partito, gli onorevoli Capano, Grassi e Servodio e gli assessori regionali Amati e Minervini, dopo le primarie è diventata un caso nazionale. La ragione sta nel fatto che i vertici nazionali del partito, ha detto Minervini, hanno creato in Puglia un laboratorio di nuove alleanze politiche. Grazie.